Una battuta con Greco, presidente della Brancaleone, che salutiamo. Ben ritrovato, Greco. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ben trovato su Stadio Radio. Andiamo a parlare di una gara che ha lasciato qualche strascico polemico dopo ieri. Una gara, quella che ha visto il Brancaleone in trasferti in casa della Villese, terminata 2 a 2. Insomma, c'è stato qualche espulso di troppo in casa Brancaleone, ma c'è stato anche qualche minuto in più, sembrerebbe. Ora chiedo a lei, noi chiaramente non eravamo presenti, per quanto riguarda il conteggio del recupero su questa sfida. Ci racconti un po' lei com'è andata, al prescindere dal risultato di questo 2 a 2. Una gara che ci ha lasciato una maledza in bocca perché eravamo in vantaggio fino all'ultimo secondo, pure se eravamo in 9. Purtroppo è andata così e alla fine ci hanno segnato al tredicesimo del minuto di recupero. Diciamo al tempo supplementare, possiamo dire. Sedicesimo, quindi sedici minuti? Tredici. Tredici. Dordici minuti e mezzo. L'arbitro, diciamo un giudizio arbitrale, secondo me è ingiusto, però ogni arbitro la vede al suo modo. Per me è stato ingiusto. Cioè ci sono state qualche sostituzione di troppo, le sostituzioni come sono state? Guarda, sono state 8 sostituzioni, nel secondo tempo un'espulsione, quindi se facciamo la media sono 5 minuti di recupero. Vogliamo dare un altro in più, 2 in più, sono 7. Ha chiamato 10, oltre al decimo siamo stati oltre. Poi, voglio dire, se un arbitro dichiara che al calcio d'angolo viene battuto e fischia, viene battuto il calcio d'angolo. Tringale ribatte fuori di testa, poi di nuovo rimpallo, tringale di nuovo di testa, dal limite poi un tiro sbirgolato sotto la traversa e fanno golle e poi fischia la partita. Non so se sia giusto o ingiusto il giudizio arbitrale. Per me è ingiusto. Comunque, ognuno, secondo me, la interpreta come vuole. Al proprio metro di misura, dice. Si parla anche dei momenti di tensione. Ci sono stati momenti in cui si è perso altro tempo. Tutti quanti, non voglio, poi alla fine, come ti posso dire, il sangue è caldo, poi se la prende con l'albitro, però ci sono stati momenti in cui qualcuno ha capito una parola di troppo, che magari è stata capita male, quindi è stato tutto risolto. Il problema poi è le espulsioni, le espulsioni che ti posso dire, ci sono le espulsioni che non ci sono, perché quando si gioca a calcio, si deve giocare a calcio, non si deve far dare oltre, oppure la parola in più, la parola in meno. Purtroppo è andata così e ci è rimasta un'amarezza che se dobbiamo digerire basta. Vabbè, è un dato che immagino porterete anche a chi di competenza, nel senso che se pensate di aver subito un torto… Sì, certo, ma alla fine che puoi fare? Non puoi fare nulla, perché la regione c'erano sempre loro e quindi purtroppo se eravamo 11 contro 11, con presunzione ti posso dire che eravamo sul 2 a 1, quando prima delle espulsioni vincevamo 5-6 a 1, quasi a 1, ma no perché la nostra squadra è una squadra forte, diciamo, a livello di assoluto. È andata così e basta, perché noi abbiamo difeso bene, perché abbiamo una grande squadra, si sono messi il bene dietro, loro attaccavano, noi difendevamo fino all'ultimo secondo, però se puoi, se devo andare così, uno deve segnare da forza. E' chiaro, cioè, vedete, voi date chiaramente questa chiave di lettura, perché insomma sembra quasi una beffa, no? Diciamo una beffa, ti posso dire che, allora poi, come ti ho detto prima, ogni arbitro l'interpreta come vuole. Per me è un giudizio ingiusto, perché me la davamo, cioè, no, di vincere in che senso? Perché abbiamo difeso bene in 9 e all'ultimo secondo 10 minuti di recupero, secondo me sono tanti. Sì. E poi, voglio dire, siamo quasi oltre, siamo oltre i 10 minuti. Sì. Insomma, una decisione ingiusta quella che avete registrato io. Sì, ma purtroppo è andata così. Sì, guardare avanti, dai. E quindi guardare avanti alla prossima partita. Ormai è andata così e basta. Ormai è andata così e basta.